Chivasso torna a un appuntamento ormai storico, qual è il significato, qual è il messaggio che vorrete mandare? Un messaggio di una tradizione che si rinnova nel tempo e negli anni, di queste tre ribattezze che sono i nostri nocciolini, e come diceva giustamente la seconda di Ascom, è conosciuto in tutto il mondo. Teniamo conto che negli Stati Uniti il nocciolino e il Chivasso viene molto molto apprezzato, specialmente a New York. E ho delle conferme, un feedback proprio lì sopra. E' un appuntamento importante per la città perché la città oltre ad evocare queste tre ribattezze che hanno origini storiche ancora che risalgono in Savoia, è anche un modo per coinvolgere tutta la città e tutto Chivasso per questa festa importante e anche una festa del comitato giù. Come sarà il programma? Un programma molto sobrio, molto forbito, che coinvolgerà tre giorni e la città, per cui un programma è un'importante. Va bene.